Rieccoci ragazzi, sempre qua su Nintendo Switch e su Vanessa in TV Allora ragazzi, oggi invece portiamo Clash Force Proviamo subito questo giochino interessante Allora, vi dico già che Clash Force, così lo sapete Allora, intanto lo trovate a 3,74€ al momento in sconto sul Nintendo Store Altrimenti normalmente costa 4,99€ Allora, vi dico un pochettino la trama Il malvagio Crackman e i suoi tirapiedi stanno causando il caos E solo Clash Force è l'altezza del compito di fermare i suoi diabolici piani Guida Vom, Scorpido o Echid attraverso basi forestali Deserti idrofizzati Miniere sotterraneo e infine alla fortezza volante di Crackman Dove si svolgerà la battaglia finale Scrive i nemici, spara i tuoi nemici E raccogli potenzialmente i migliori per raggiungere la fortezza di Crackman E salva la situazione in questa lettura d'amore di un classico videogioco retro D'azione run and gun a 8 bit e i cartoni animati degli anni 80 Vuoi salvare la giornata? Caratteristico Oltre 20 fasi di frenetiche azione retro Potenziamenti multipli delle armi per far sprecare i nemici in un attimo Per uccidere i nemici in un attimo Scegli tra 3 difficoltà perfette per i principianti e per i maestri di gioco degli anni 80 La funzione di salvataggio automatico ti consente di dipendere da dove eri rimasto E il gioco è della Rata Laika Games Anche questo Quindi andiamo subitissimo a provarlo ragazzi Allora Vai Ok devo fare più forza da qua Ok ragazzi è abbassato un perro altrimenti ne sentiamo più un piffo Non mi sentivate assolutamente Comunque il gioco è in italiano quindi possiamo giocare in italiano Perfettissimo Ok Inizia a giocare Vai là vai Normale Assolutamente Mi piace A me piace il Vard Quindi andiamo su Vom Oddio Vediamo Crackman è il suo diabolico esercito Ci stanno invadendo Solo la Clash Force può fermarlo La base della foresta Area 1 Ok Aspetta Quindi questo Ok Va bene Uh Ok Devo capire un secondo solo per i tasti Maledetti Stronzoni Perché sono un po' messi a cavo i tasti Ma Un secondo che adesso ci abituo Ok Balla Oddio Sì è proprio uno di quei classici giochi Piene 80 Doppio sparo Fregata No Cacchius Balla Adesso vedete che già capisco molto meglio più velocemente anche le cose Doppio Doppio Ok Questi qua sono quelli un po' più infami Posso saltare fino a sopra Sì Doppio Doppio Triplo tiro Fintissimo Fintissimo Fint ragazzino Poi tra l'altro sembra tipo Sembra Cos'è tipo quelli Dei datalughe ninja Rocks e di bebop Sembrano quali? Sembrano Oh Ok E vai Livelli bonus Cos'è? Ah ok Figo Quindi adesso abbiamo un attacco diverso Bello Mi piace questo qua È un po' più Concentrato Aspetta che questo qua Questi qua purtroppo vanno un po' a cazzo Quindi devi fare attenzione Oh cazzo Ah va tutto ok Carino il totem comunque Bella Cazzo Cazzo Ok Ok Vediamo 3 3 cuori Segui Sì Cosa è proprio I tipici giochi Anche da Da sala giochi Ragazzi No ragazzi È bellissimo Questo gioco qua Minchia Se sapevo Lo giocavo molto prima Che figata Se farlo così Battuto Chissà come saranno i boss Livelli bonus Vai Ah quello triplo Ok Oh calmo 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 Ok Devo trovare Devo trovare Sottamente Della vita Menomai che non si esaurisce mai Questo attacco qua Ok Qua continuo a sparare Altrimenti mi sa tanto che Moriamo da stronzi Che cosa Che cosa No volevo capire Che cosa era Quell'attacco Vai Vai No Maledetto Fastidio Ok Bella Ottimo Eh Eh Voglio non riesco a prenderlo Peccato Ah ma forse mi aumenta i danni Quella farina lì No perché Sto vedendo che In effetti Sembrerebbe Che faccio più danno Ok Vai vai Ballale Rivelli bonus Di nuovo Questo fa più male Cacchio La base della foresta D'è il capo Oddio Balla Ci abbiamo fatto ragazzi Nivelli bonus Sotto tara Area 1 No No Ti prego Stavo Non l'ho fatto Apposta Eh Ma bo Qua devo farci un attimo La mano Devo prenderci Ok Maledetto Eh Qua non potevo seccarli Quelli Eh Vabbò Ok Devo riuscire In qualche maniera Ma fregarli No Eh In questa parte qua ragazzi Ci metteremo un po' La vedo già Ok Ok No Non l'ho visto arrivare Ok Ok Se tengo premuto È meglio Forse in questo caso Ok No Porco 2 Vai 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 E niente Continuo a non vedarlo Arrivare a quello lì Per fortuna che sono infinite le vite Altrimenti E niente È andato bellamente Questo No 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 Qua mi sono incasinato da solo Ok Comunque è molto carino Sto gioco qua Molto divertente Assolutamente Molto divertente Eh vabbè Naturalmente quando prendo Casualmente lo sparo Mi colpiscono in sott'ordici Mina Eh volevi Ecco Va bene Va bene va bene Ma ce la puoi fare Ce la puoi fare Io credo in te nel nome tuo Naruto 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 Vai Ok Eh vabbè Bella Ce l'abbiamo fatta forse Livelli bonus Mamma mia Meno male Ok Ok Per fortuna Non c'è più la cosa dei Seccati tutti Ottimo No Ok Eh vabbò Cannata enorme Balla Balla Eh no No era doppio Eh l'ho visto dopo Ok Vai Vai Balla lì Ora sì che facciamo male Ora sì che facciamo male Ok Ok ottimo Una vita anche Che però No Prefisco questo Ok Ok No 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 Aspetattimo Posso andarmi a ripendere Il Tris Il Tris Sì Perfetto No Eh porco Due Ah boh E ho fatto la cappellata Dell'anno Però ci siamo quasi Abbiamo capito come funziona il livello Dai aia dai aia poi lasciamo lì prevenienze perfetto ok aspetta un po vediamo se riesco per caso sì sì comunque secondo me fa danno doppio a questo fare qua nooo volevo mettermi nell'angolo cazzo eh questi qua sono i classici livelli che devi un attimino metterci lì e riuscire a a non fare le capellate perchè qua è tutta una questione di capellate poi è un classico ok ok vai e niente wow dove caspita sono andato ma scusate sono andato in un punto che non dovevo andare lol aspetta che ok ok calmo questi pezzi qua bisogna fare molta attenzione ok se chissà se si poteva scendere bala lì diverlo bonus sto divertendo un casino ragazzi comunque questo gioco eh perchè si è ad esempio scuro però ah ok era proprio questo pezzo qua che era scuro il gioco ok ottimo ok eh no aspetta perchè ok bella ci abbiamo fatta aspetta che secchiamo questo aspetta che mi gratto anche il naso guarda lì oh cacchius ok bella aspetta che qua dobbiamo farlo da qua cosi non siamo tranquilli bella anche questo fatto doppio 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 aspetta che facciamo ancora questo ottimo bella lì aspetta che questo qua devo farlo esatto così almeno lo facevo prima e abbiamo completato anche questo ok sottoterra capo oh cazzo eh no stavolta aspetta un secondo che si questo qua è easy se non è passato un pirla eh no aspettate easy un cazzarola dai sii e vai è fichissimo questo gioco da twitch assolutamente da twitch assolutamente ragazze abbiamo questo oh che pelo vai ok ok eh questo qui non riesco stavolta si si conveniva prenderlo quella fuori là però vabbè ormai wow vabbè ce l'ho fatto ormai l'ho fatto tutto di corsa questo ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate anche di questo perché secondo me questo è molto molto carino eh come gioco molto divertente aspetta se non ho stronzo quando faccio queste cose niente non non ok ho capito che qui non sa da prendere ok va bene ci sarà un maniera ma a quanto pare io non la capisco quindi ok ok vai oh 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 vai eh ho sbagliato stavolta vabbè niente niente eh sono morto da stronzo ok ok cioè è carina anche la cosa che comunque ti fa iniziare il livello ogni volta mi piace almeno per queste tipologie di giochi qua eh per altri invece sono proprio stupidi come cosa però per queste tipologie di giochi qua secondo me ci può anche stare vai 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 oh attenzione 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 ragazzi che però mi piace anche tantissimo il salto che fanno perché fanno un bel salto fanno ok ok vai 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 perfetto vai così a posto fortezza area 3 fortezza area 3 Vai, vai, vai Uh Che pelo Eh Qua mi sono ciulato già due vite Come un pirla Una vita però la riprendo, attenzione Ok Vai Mi sto impegnando ragazzi Tantissimissimo proprio Eh la porta Cavolo di cannone di merda Vai Aspetta Ho visto adesso Cioè in realtà l'avevo vista anche prima però Ok Vai bellissima Tre cuori tra l'altro Bella lì Ottimo Bella No Ho fatto una cappellata enorme C'è quel cannone che mi frega Vai Uno Due Tre Quattro Ok Ok Questo qui bisogna seccarlo alla seconda Altrimenti non riesci più a seccarlo Cioè nel senso ti becca sicuro quasi Ok Uno Due No 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 Figuraccia di merda Vai 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 Ok Ok Dai 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 Ragazzi che ce la facciamo Ma è questione di principio Uno Due Due Perfetto Perfetto Ottimo Mi sto impegando tantissimo ragazzi eh Vai 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 Tanto una mi ha già colpito Uh Che bello Che bello Bella lì Ok Vi faccio solo il capo ragazzi E via Ah Ah Yeah 27, 20, 19, 12 Battuto, balla lì Balla ragazzi Allora, ragazzi Allora, fatemi sapere intanto che cosa ne pensate anche di questo gioco qua Clash Force Come vi ho già detto costa 4,99 normalmente su Nintendo Shop Al momento ho trovato il sconto in 3,74 Ci vediamo alla prossima, sempre qua su Amazon TV E spero vi sia piaciuto tantissimo il gioco con mamma E alla prossima, ciao ragazzi